andate bene proseguiamo ragazzi con la storiella di assassin's creed revelezio mi dice 3 metri sopra sarà vero? dobbiamo andare a prendere mi sa un'altra chiave e qua dove cazzo salto? qui è la torre di galata ragazzi è impegnativa da scalare ci vuole un pochino di tempo che poi si tene per il muto x dovrebbe fare il salto tipo che adesso non fa però ok ecco qui c'è anche uno scrignetto che sicuramente sarà quello dei rifornimenti sapevo va bene interagiamo qui ci resterà al limite di tempo per forza sei minuti va bene via ispezione alla torre di galata quindi non abbiamo neanche il tempo di goderci le cose che dobbiamo praticamente scappare scappare e niente finiamo giù nell'acqua non lo so oh merda odio queste cose ok sono sopravvissuto bene o male meno male non c'era tipo non perdere x di quadri di salute mi sarei già fottuto malissimo ok buono così però per l'ultimo eh mi piace che sei piccino Ezio ok ok zipline non bisogna perdere tempo non bisogna perdere tempo giù ok benvenuti nel paradiso magari ok ok ci deve essere un punto dove ci si arrampica è quello lì credo sì bravissimo Ezio lino ok molto black flag questa cosa a noi piace so che a noi piace allora per ora sta andando anche tutto relativamente bene c'è da vedere dopo come volgono le cose però per ora sta andando anche dignitosamente bene ok buono dritto ok basso alto basso alto salto zipline attraverso la cascata bellissimo adoro punto di controllo raggiunto allora proseguiamo bene così cazzo succede bravo Ezio bravo bravo altra zipline e siamo giunti a destination oddio non vedevo niente sotto non capivo ha 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 comunque via di qui altro punto di controllo bravo ok giù su sono cagato addosso come è bello giocare giochi retro ragazzi voi non potete capire la bellezza di queste cose o Però veramente sto facendo tutto in maniera molto egregia. Anche perché, se vogliamo essere sinceri, non è che si è dimostrata finora proprio una missione difficile. Però non si sa mai. Ok, giù. Giù. Ho fermato un secondo per riequilibrare le cose. Dovremmo essere arrivati in fondo. E' evidente, c'è un culo... ...top aperto, eh. Cioè, ha proprio i mostri dentro la storia di Galata. Galata, sorry. Ok. Uso l'occhio dell'aquila. Questo? No. Questo? No. Aiuto. Questo, per forza. Quanto c'ho di tempo ancora? 49 secondi! Cazzo. Troppo poco. E allora prendiamo la chiave di Masiaff. 2 su 5 ottenute. E abbiamo fatto il 100% di sincro, ragazzi. Mi dispiace aver caccato lì degli scrigni, però. Mi interessa più il 100% che gli scrigni, sinceramente. Ed eccoci tornati a Costantinopoli. Grazie! Grazie! Grazie.